Come dormire correttamente Le cinque mogli di bambù dell'imperatore Mu Yuichun Come dormire è molto importante. Vediamo come dormono le persone. Un cuscino non va bene. Perché non va bene? Se la spalla si trova in questa posizione, tira il braccio. Guarda, la spalla e il sedere sono collegati. Se il sedere fa male, allora questo non è piacevole per la spalla. Dobbiamo decidere come fare. Il braccio e tutta la spalla dovrebbero riposare. Come riposare? Guarda qui, se hai dolore nella spalla, devi mettere un cuscino sotto al braccio. Mettiamo l'avambraccio su un piccolo cuscino per liberarne la tensione. Senza il cuscino, il braccio è esteso e in tensione. Il braccio destro si chiude e preme sul cuore. Ho bisogno di un altro cuscino e subito la posizione diventa piacevole. Ma le gambe, così non vanno bene. Come mai? Tieni le gambe dritte, parallele l'una all'altra. Se le due ginocchia sono unite, l'inguine è chiuso. Devi aggiungere un quarto cuscino tra le gambe. e scriverci come ti farà sentire. Ora è tutto piacevole. Puoi provare a dormire in questo modo tu stesso. Il sonno sarà molto buono. Quindi, quando sei stanco di dormire sul lato sinistro, girati a destra in questo modo. Vedi, qui prendo il cuscino che è vicino al cuore e mi giro con il cuscino che è tra le mie gambe. Aggiungi un quinto cuscino in modo che la mano possa riposare sul lato destro. Ora fai attenzione. Quando dormiamo, dobbiamo tenere la testa leggermente verso l'interno. Ma alcune persone mi raccontano che non dormono sul fianco, ma sulla schiena. Io rispondo loro che se dormono con un cuscino sotto la testa, al mattino gli farà male la parte bassa della schiena o le gambe. Come mai? Perché le gambe tese fanno una trazione sulla parte bassa della schiena. Devi mettere un cuscino sotto le ginocchia in modo che la tua zona lombare si rilassi. Assicurati di posizionare questo cuscino. Il cuscino dovrebbe essere qui affinché il tuo corpo si senta a suo agio. Puoi provare. Non devi credere. Devi provare. Poi ti sarà più chiaro. Questa tradizione cinese è molto antica. Le persone anziane lo fanno e gli fa molto bene. Quando dormi, il mento non deve spingere in basso contro il collo perché inizierai subito a russare. Questo cuscino è necessario per posizionare correttamente il collo e non solo la testa. Prova a respirare cambiando diverse posizioni della testa e sentirai la differenza. questa posizione è piacevole ma in questa posizione non è piacevole. devi allineare la testa. Le persone dormono qui. È sempre schiacciato. devi pensare a come garantire la corretta posizione della testa. Le gambe sono in una posizione piacevole, libere, leggere. A poco a poco la salute è sempre migliore e solo grazie al sonno. Il sonno è come una medicina perché noi ci curiamo durante il sonno. Ci sono ancora persone che dormono stando sedute. Si siedono nella posizione del loto. Mettono un cuscino. Ci mettono le mani sopra o lo abbracciano e ci appoggiano il mento. Allungando un po' il collo. Questo cuscino è buono per mantenere il corpo dritto. Grazie per l'attenzione. In Cina è tradizione non stringere la mano alla frase buon pomeriggio perché le malattie possono essere trasmesse con il contatto. In Cina la mano destra significa sole, la mano sinistra significa luna. sole e luna insieme è come yin e yang insieme oppure io e te stiamo insieme riuniti. Buona giornata. Classi online e workshop dal vivo con il maestro Mu Yui Chun o con i suoi studenti. Prendi contatto con questi numeri su WhatsApp, Telegram o Viber. o con i suoi studenti. Prendi contatto p §